Buongiorno, quando la parola aveva della Pallana, ho preparato con te, 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 con te. Buongiorno, quando la parola aveva della Pallana, ho preparato con te, 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 Poi si fa cullere il calcio d'angolo, corner per Leonardo, la batteri raccia, la signora la testa di Tessone, affontana la difesa, ma si scelte Turizzo, Turizzo, Mirace, passa a fare un pallo laterale, ancora un'azione un po' approssimativa dell'antacqua, sta pressando, parte di Padova, pallo laterale, vede Tirito in aria, sempre un paio d'avversari alle Calcagna, Turizzo lotta con Frascati, Turizzo alla peggio, ragazzo che fa po' stanco, Mirace, 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 altro di punizione.